Come è nata questa idea e soprattutto come è presa la notizia di dover cantare una canzone per quello che è stato definito un po' l'evento del secolo? Assolutamente per caso, innanzitutto questa collaborazione grazie all'autore del testo Luca Marino ed Alessandro Sgambati, siamo un gruppo a tutti gli effetti e quando ha preso la notizia di dover cantare questa canzone effettivamente mi sono sentita un po' emozionata allo stesso tempo un po' nervosa voglio dire perché comunque è un evento importante e ho cercato di metterci insomma tutta la dolcezza e tutto l'amore che in quel momento il testo mi richiedeva sono stata molto onorata di poterla cantare comunque per un evento così importante Un testo dolce altrettanto la musica quindi anche uno studio interpretativo prima di cimentarsi con questa canzone. Quanto tempo ci è voluto per entrare proprio in questo testo? Assolutamente. Il discorso è ovviamente facendo il mestiere della cantante sei un po' abituata a interpretare i testi. Questo però devo dire la verità non mi è stato difficile non è stato un arduo compito perché innanzitutto caratterialmente c'è insita in me questa cosa di essere magari un po' dolce quindi penso che dipenda anche molto dal carattere di una persona e poi voglio dire la melodia mi ha trascinato, ha fatto il suo per cui a quel punto mi sono trovata a chiudere gli occhi e insomma poi ho cantato col cuore e non sono stata lì troppo a pensare all'espressione poi è venuto un po' da sé. Ti aspettavi questo successo, questa notorietà che sta correndo soprattutto sul web perché il testo è molto cliccato, il video anche? Assolutamente no. Sapevo che era un progetto importante però insomma diciamo che non c'era la certezza matematica che tutto ciò accadesse però ne sono stata molto felice ho fatto salti di gioia perché penso che la canzone se lo meriti e poi perché penso che è stata scritta per una cosa bella per questo sogno insomma di coronare il loro amore a due giovani a cui uno augura insomma tutto un futuro rosio e quindi la canzone parla di questo e mi è piaciuta l'idea subito e sono stata contenta che ho avuto questo riscontro perché secondo me lo meritava. Ritieni un'opportunità anche artistica per te immagino? Certo, assolutamente. Poi la cosa importante è che in questo mondo insomma non si sa mai che cosa si può incontrare i fratelli Scicchitano sono delle persone insomma io ho notato di queste persone subito la sensibilità e il cuore quello che io cerco è cerco di trasmettere cantando questo brano per cui c'è stata questa simbiosi ad hoc ecco non è mancato nulla, non è mancato. Dovessi essere chiamata dall'Inghilterra per eseguire dal vivo questa canzone come apprenderesti questa notizia e soprattutto come la viveresti. Bene, bene. Speriamo che accada, insomma aspettiamo e siamo qui, vedremo. Ci racconti un po' per chiudere questa breve intervista qualcosa in più di te quando nasce la tua passione per la musica e soprattutto quali sono i geni che più ti interessano? La mia passione per la musica siccome sono già figlia d'arte nasce veramente da bambina. Poi ho studiato al conservatorio, al pianoforte, ho avuto modo di coltivare questo sogno che è rimasto comunque in quattro mura voglio dire è stato lì, non ho mai partecipato a dei concorsi insomma molto famosi pur avendo fatto dei talenti eccetera però la mia passione viene da bambina è quello che mi importa io uso la musica per arrivare alle persone questo è quello che conta più a me e questa occasione, tra virgolette, mi è servita proprio in questo intento perché comunica l'amore, comunica dei sentimenti positivi quelli che io insomma cerco di far arrivare alle persone perché la musica è vicina alle persone. Allora ti auguro di poterti vedere a Bambina in Parasa cantare questa canzone e un proseguimento di carriere. Grazie.